Cari amiche e cari amici del clan georgici, ben ritrovati anche oggi in Vivaio. Questo video vuole essere un invito a misurarci con la coltivazione di una pianta un po' dimenticata. Magari i meno giovani tra noi, mi ci metto pure io, qualcuna l'hanno coltivata. Per qualcuno potrebbe essere una bella scoperta. Voglio parlarvi di come muovere i primi passi nel fantastico mondo delle dalie, che sono dei fiori meravigliosi, soprattutto capaci di dare colore nel giardino verso la fine della stagione, quindi in estate fino all'autunno, praticamente all'inoltro dell'inverno. Vediamo qualche regola base per partire subito dopo la sigla. Se non sapete dove andare a scegliere il primo tubero di dalia, vi invito a guardare la pagina dedicata del nostro shop online. Sono arrivati tutti i tuberi delle dalie, ma sono arrivati anche tantissime stupende bulbose, rizomatose, primaveri lì da mettere a dimora nelle prossime settimane. Di solito le dalie si possono acquistare nel garden center durante la stagione fine primaverile-estiva, le troviamo già vegetate, spesso sono già bocciolate o addirittura fiorite, e lì ce le prendiamo, ce le portiamo a casa. In questa stagione, come dicevo, potete anche acquistare questi gruppi di radici tuberose, che sono state evidentemente estratte dal terreno prima dell'inverno scorso. Vedete infatti che c'è ancora il pezzetto di colletto del gambo, che poi è stato tagliato, da qua l'anno scorso era partita tutta la vegetazione. Se quindi decidiamo di partire dalle radici tuberose, che è la cosa più divertente, abbiamo anche qua due vie. Io vi faccio vedere a metterla in vaso, cambia poco se la dobbiamo mettere in piena terra. L'unica cosa è un po' il momento che varia. Siccome è una pianta che non ama le gelate, dobbiamo far sì che fino a quando l'inverno non è completamente passato, il rischio di gelate non è escluso, la possiamo coltivare in vaso per anticipare un pochino la vegetazione e la teniamo in una serretta fredda, riparata. Qualcuno se la tiene anche in casa, va bene, non vi preoccupate se non avete posto per tenerla, io ho solo il giardino dove metterla, faremo l'impianto in piena terra, lo faremo un po' più avanti, magari a fine di aprile, inizio maggio, quando siano sicuri che insomma di gelate, penso in buona parte dell'Italia, scuse le regioni montuose, il rischio di gelo non ci sia più. Io di solito quando ho l'intenzione di metterle poi nell'aiola del giardino non prendo dei vasi eccessivamente grandi che sono inutili, questo qua ha proprio la misura del clamp di tuberi. E quindi quello che faccio è sistemare il gruppo di radici tuberose, il bastoncino ovviamente, quello che vi ho fatto vedere prima dove c'erano attaccate le foglie, vi dice dove sta l'alto. E poi ci mettiamo dentro il nostro terriccio. Lo sappiamo, tutte queste piante qua, bulbose, rizomatose, tuberose, che hanno degli apparati radicali cicciottosi, per usare un termine tecnico, soffrono molto il ristagno idrico, quindi hanno sempre bisogno di terricci molto leggeri, molto drenati, questo è il nostro OnePlus solito, vedete che è molto ricco di pietra pomice. Vibriamo bene il terreno in modo che anche lo spazio tra tutti i tuberi venga occupato dal substrato e poi praticamente quello che ci rimane è il pezzettino che avanza fuori. C'è qualcuno che le coltiva anche praticamente quasi fuori terro, visto che vengono lo stesso. Vabbè, c'è tutta mille filosofie, mille modi di fare, tanti funzionano in maniera equivalente. Io, vabbè, ho fatto così l'anno scorso e ha funzionato, vado avanti. A questo punto quello che dobbiamo fare è dare una generosa bagnata al substrato, lasciamo bene che scoli fuori anche l'acqua, poi basta, non bagnate più fino a quando la pianta non comincerà a sparare fuori i primi germoglietti. Come vi dicevo, quando la stagione si scalda un po', la pianta è già un pochino vegetata, possiamo passarla in terra. Anche qua, quando la mettiamo in aiola, dobbiamo scegliere un substrato, dobbiamo scegliere un terreno che sia leggero, quindi se avete una terra pesante nell'aiola, magari vangategli dentro della sabbia. Sarebbe stato bellissimo pensarci prima dell'inverno e magari mescolare della sostanza organica dell'etame. Solo un'indicazione, quando dalla coltivazione in vaso andiamo in piena terra all'esterno, attenzione a non fargli prendere degli sbalzi, cioè se fuori c'è ancora un pochino di fresco, cerchiamo di abituarla un po' alla volta, cioè non è che se ce l'avete in salotto a 20 gradi, poi la buttate fuori, ci sono magari ancora 8 gradi, la pianta non fa benissimo. Normalmente le daglie amano dei luoghi soleggiati, ben esposti, caldi, e quindi sono da evitare invece tutte quelle posizioni un po' troppo riparate dal sole, fredde, magari col terreno che sta sempre un po' umido. Questo non vuol dire che dobbiamo piantarle nel deserto, anche terreni troppo asciuti danno fastidio alle daglie, vedete che non vi fioriscono se non sono sufficientemente irrigate. Quando però la stagione si inoltra, pianta vegeta, lavora, vedete che fa tante foglie, quindi ha bisogno di essere irrigata con una certa frequenza, è impossibile sempre dare delle cadenze, però diciamo che in aiola, mediamente una volta a settimana, quando fa molto caldo magari anche di più, ho visto che in estate una ce l'avevo in vaso in una fioriera e praticamente dovevo darle da bere tutti i giorni a luglio-agosto. Vi ho portato tre concimi, me ne ho portati tre perché magari uno di questi ce l'avete, e quindi vi dico, sono tutti e tre concimi che per queste piante vanno molto bene. La concimazione io l'ho trovata importante nelle daglie, vedo che fa la differenza. Potete usare un concime liquido per piante fiorite, come questo di Cifo, lo diluite nell'acqua di bagnatura, leggete le cadenze, sono riportate in etichetta. Se siete un po' smemorati, c'è un bellissimo lenta cessione per piante fiorite, quindi lo date una volta ogni 3-4 mesi, è sufficiente, lo potete dare all'inizio della stagione, aprile, poi una volta lì alla fine dell'estate, se volete un'altra volta durante l'autunno. Sono tutti concimi che hanno dei titoli di fosforo piuttosto importanti perché è un po' quello che ci promuove le fioriture. Quello che ho usato io l'anno scorso, che ultimamente sto usando tantissimo, è l'asso di fiori. È un idrosolubile, oppure lo potete anche mettere sul terreno, questa polvere, lo potete diluire nell'acqua di bagnatura. Se vi piace fare le concimazioni fogliari, non le farei sulle daglie, vi dico la verità, va bene. È un universale, quindi lo potete usare per tutte le piante, volendo anche quelle da interno. Perché asso di fiori? Perché è molto completo in termini di microelementi e su questi microelementi io sono un po' fissato, quindi uso questo qua. Ma il vero boost alle fioriture si ottiene con l'utilizzo di un biostimolante, di un fitostimolante. Ne avete uno a casa, usatelo sulle daglie. Se non ne avete, io vi consiglio come sempre il mio preferito, che è questo bio oro di cifo. Lo aggiungo anche quello insieme alle concimazioni. Uno dei nemici più temibili che ho incontrato nella coltivazione delle mie povere daglie l'anno scorso sono state le maledette lumache, per meglio dire chiocciole. E sto usando con successo ultimamente questa polvere di roccia, il litotamnio. È una polvere che deriva dalla macinazione di sedimenti, di alga, una polvere calcarea. Sembra una polverina fine a noi. In realtà sono dei cristalli che per le lumache, ma in realtà anche per i bruchi, per le cimici, sono come dei pezzi di vetro. Loro ha questa azione abrasiva sui corpi di questi animali, ne disincentiva l'arrivo, ne disturba anche proprio l'apparato masticatore. Quindi di solito io ne spargo 20-30 grammi per metoquadro sul terreno intorno alle piante e funziona bene. L'altra malattia che ha attanagliato le mie daglie, sono riuscito a tenerla a bada, è l'oidio, il mal bianco. È super riconoscibile, vedete queste foglioline che fanno la polverina bianca. Ora innanzitutto quando bagniamo, se riusciamo, cerchiamo di non bagnare le foglie, i fiori della daglia. Se vedete comunque comparire il maledetto mal bianco, potete utilizzare una miscela di prodotti naturali per contrastarli. L'arancioil, lo mettiamo in ragione di 8 grammi per litro, è un inibitore della germinazione delle spore di questi funghi. E insieme ci potete mettere 2 grammi di lecitina di soia e 10 grammi di bicarbonato di sodio. Se volete scongiurare l'arrivo dell'oidio, un buon prodotto è la Propolis. Sapete che la Propolis la prendiamo anche noi quando abbiamo le infezioni alla gola. È un antisettico naturale e riesce a tenere, tra virgolette, disinfettata la pianta. Quindi in prevenzione, ma anche in post-emergenza, una volta che l'oidio lo avete cacciato, tenete il trattato con Propolis. Ovviamente quando vi parlo di questi prodotti non è che funzionano solo per la daglia, funzionano per i target su ogni pianta, quindi se avete l'oidio sulle rose, benissimo potete usarla. Va bene, sicuramente mi sono dimenticato qualcosa e ci sarebbero tantissime altre cose da dire sulle daglie. Come dicevo, è un universo. Però iniziamo con questi piccoli contenuti, se volete approfondire vi lascio qua sotto il link all'articolo del nostro blog. Spero che accettiate questa challenge, fatemelo sapere. Fatemi sapere nei commenti, anche se probabilmente siete anche più bravi di me a coltivare le daglie, quindi se volete darmi qualche dritta, ben venga. Io vi ringrazio per l'attenzione, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete già fatto. Seguiteci anche su Instagram, vi ricordo il nostro hashtag è sempre lo stesso MakeTheJungle. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Ciao clan Giorgi, ci bella!